Il mio avversario sarà Matteo Salvini, proprio come è successo in Emilia-Romagna tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini. Eugenio Gianni, in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, scalda la campagna elettorale in vista delle prossime regionali, snobbando la candidata ufficiale del centrodestra, Susanna Ceccare. In Emilia-Romagna, ha aggiunto Gianni, i leghisti dicevano le stesse cose. Mi sono sentito con il presidente Bonaccini l'altro giorno ed ho subito capito. Stanno facendo una campagna fotocopia dove il mio avversario è Salvini, che si porta dietro al guinzaglio una candidata. Parole forti e immediata è stata la risposta. Sul Corriere, il signore Eugenio, scrive Susanna Ceccardi su Facebook, dichiara che Salvini mi tiene al guinzaglio. Non voglio fare la vittima, una certa sinistra griderebbe allo scandalo se un nostro esponente dicesse a una donna dello schieramento avversario che è buona soltanto a stare al guinzaglio. Si leverebbero le grida di indignazione a livello internazionale. No, io non mi sento una vittima, sono dove sono perché ho ricevuto i voti della gente, perché ho ribaltato un sistema di potere dopo decenni, mentre nel frattempo lui a quel sistema si prostrava. Lo sappia il signore Eugenio, ha concluso Ceccardi, e lo sappiano gli altri. A me e alla Toscana, quando sarò governatore, non metterà i piedi in testa a nessuno.